Pomeriggio da dimenticare. Perde tutto il bitonto. Perde la partita, perde il primato in classifica, perde dopo oltre due mesi di imbattibilità. Interrompe la sequenza dei risultati utili dopo sei successi consecutivi più pareggio. Il pomeriggio da dimenticare si materializza sul sintetico dello Stadio Italia di Sorrento che resta così un tabù. Vincono 4-1 i campani, la leadership di Lero Verdi dura quattro giorni, ora comanda nuovamente il Cerignola. La partita De Luca rispetto al brindisi schiera tra i titolari Radicchio, Manzo e Taurino, quest'ultimo compone il tridente offensivo con Lattanzo e Santoro. Non è il festival ma la musica è facilmente intuibile sin ai primi minuti. Sorrento ad un passo dal vantaggio in apertura, ci vuole un super lonoce però forse al colpo di testa di Labonica. È il Sorrento a scattare decisamente meglio dei blocchi di partenza. Il bitonto invece fa fatica ad entrare in partita. Tedesco rientra sul mancino ma la mira è da rivedere i padroni di casa. La sbloccano dopo una decina di minuti. Ripa per la Monica, altra risposta super divanoce che però nulla può sul colpo di testa di Gargiulo. Sorrento in vantaggio, bitonto che prova ad assorbire lo schiaffo. Piarulli, disegna, Santoro in corna ma nulla di fatto. Nelle giornate non indimenticabili è giusto provarci anche da fuori. Calcia Riccardi, del sorbo se la cava in qualche maniera. Buon momento dei pugliesi, Santoro cerca e trova Lattanzo che non sa incidere da buona posizione in chiusura di frazione. Campani così, avanti di un gol all'intervallo ma verdetto ancora in discussione. Ripresa che si apre col botto per i costieri. Punizione di Rizzo, sponda di Lamonica, gran soluzione a mancina di Tedesco che raddoppia le marcature. 2-0, gol davvero molto bello. Bitonto spalle al muro, bitonto che però la riapre intorno all'ora di gioco. Manzo per Lattanzio, per Petta che trova la deviazione vincente da due passi. Neroverdi di nuovo ad un'incollatura dall'avversario. La squadra di De Luca però non riesce a dar seguito al gol perché il sorrento a riprendere subito il pallino del gioco con personalità e determinazione. Eroraccio pazzesco di Lonocce che perde clamorosamente l'equilibrio e consente a Virgilio di depositare nel sacco il gol del 3-1. Pugliesi in affanno, idem il proprio portiere che non trattiene sulla conclusione di Cassata. Poi ripa a far centro in acrobazia. 4-1, gara questa volta veramente finita. Non c'è più tempo infatti per rimetterla in piedi. Non ne ha la forza il bitonto che torna a conoscere così l'amarezza della sconfitta e ora deve inseguire la capolista. Cerignola a due lunghezze. Parentesi da archiviare in fretta. domenica arriva al Città degli Ulivi un Molfetta in serie positiva da otto partite. I Neroverdi hanno la necessità di tornare a fare quello che è stato fatto nelle ultime settimane. Vincere.